È stata la contrada della piazza a vincere l'edizione 2018 di Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. L'evento è stato promosso dalla Proloco di Segusino in occasione della 114esima Fira Franca del Rosario di Segusino, con la collaborazione della Web TV, Valdo TV e trasmesso anche dalla nostra emittente. Sette sono state nel complesso le contrade partecipanti al concorso, tre sono state le finaliste, San Rocco e Santa Lucia, La Piazza e Riva Grassà, che nella serata finale, con un vero e proprio show cooking, hanno preparato ognuna il proprio manicaretto per stupire la giuria, contendendosi così l'ambito trofeo. A vincere infine i provetti chef della piazza con le loro polpette di cinghiale con purè e fagiolini con lardo. La soddisfazione più grande è stata vincere, chiaramente noi abbiamo lavorato tanto per produrre questo piatto, prima e poi, quindi ce lo meritavamo. Una pietanza scelta appositamente per l'occasione. Faceva parte della nostra tradizione, l'ha scelto il nostro cuoco Simone, era comunque una ricetta della nonna e rientrava nei canoni che ci avevano dato. Una serata che, nell'intenzione degli organizzatori, è nata con l'obiettivo di creare motivo di incontro e socializzazione fra i compaesani. L'obiettivo della manifestazione è che le contrade possano trovarsi insieme, passare del tempo come facevano tanti anni fa, che è una tradizione un po' perduta, tutte le feste avevano una festa della contrada, al momento una sola contrada è rimasta superstite, questo è lo scopo per vedere se le cose possono ripartire come una volta.